Il nuovo progetto Erasmus dell'Università di Catania, 60 gli studenti stranieri che trascorreranno parte dell'anno accademico in corso nel capoluogo etneo. Arrivati a Catania altri 60 studenti stranieri nell'ambito del programma Erasmus, stamattina presentazione nell'aula magna del palazzo centrale dell'università. I ragazzi sono stati selezionati per trascorrere una parte dell'anno accademico 2014-2015 nel capoluogo etneo, grazie al programma Erasmus Plus svolgeranno a Catania la parte inerente il secondo semestre accademico. Questo è l'arrivo degli studenti Erasmus del secondo semestre, noi già ne abbiamo avuti nel primo semestre 150, adesso ne sono arrivati un'altra sessantina. Diciamo che è il normale avvicendamento degli arrivi per il secondo semestre essenzialmente. Catania sta investendo molto nell'internazionalizzazione e devo dire ancora abbiamo un po' di strada da fare, però sicuramente abbiamo una nostra attrattiva, il nostro ateneo ha delle buone tradizioni e gli studenti continuano ad arrivare per fortuna. Vorremmo che fossero molti di più, anche perché questa è una pubblicità non solo per la nostra università, ma anche per tutto il territorio. Uno studente Erasmus che viene qui si trova bene e poi ovviamente ne farà venire altri, questo è tutto un indotto anche da un punto di vista commerciale, economico, non indifferente. Qual è il percorso che attende questi studenti? I studenti frequenteranno i corsi che hanno scelto, così come i nostri studenti, quindi saranno tutti gli effetti studenti per sei mesi dell'Università di Catania. Faranno i loro esami, poi torneranno a casa e continueranno il loro percorso di studi, portando dietro ovviamente le loro esperienze qui a Catania. Quindi ripeto, se riusciamo a farli stare bene, è una buona pubblicità non solo per la nostra università, ma anche per tutto il territorio.